C'è anche da dire che in tutta Italia le stazioni campionate sono 24, per cui più o meno una media di una restazione per ogni giorno, per cui alcune regioni hanno due, tipo la comunità romana, perché una è quella del fiume e una è quella del mare, stessa cosa per la Sardegna, per la Liguria. E quindi è anche comprensibile che non tutte le regioni hanno deciso di mettere in atto la nostra punto di un metodo in grado di raggiungere questi limiti estremamente validi per un solo campione. Grazie